Nella prima parte del 2015 l'attività produttiva ha fatto registrare in Abruzzo un recupero in tutti i principali settori. L'occupazione è aumentata, in particolare nell'industria. Le condizioni creditizie hanno mostrato un graduale miglioramento. Nel settore della produzione noi facciamo un'indagine congiunturale che valuta dei questionari che somministriamo agli imprenditori e il 60% degli imprenditori dice che il fatturato è cresciuto. E solo un 20% sostiene il contrario, il che vuol dire che la maggior parte degli imprenditori pensa che ci sia anche un futuro più roseo nella sostanza. Da questo è emerso anche un dato positivo per quanto riguarda l'occupazione? Esatto, c'è un dato positivo che riguarda l'occupazione, è un dato il 3,4% che è sicuramente un dato di un certo rispetto. Dati positivi, avete detto anche sulle condizioni creditizie, davvero è cambiato il rapporto tra banche, imprese e famiglie? Ma questo è un rapporto che risente delle situazioni che via via si verificano. Le banche hanno avuto una serie di problemi, si sa che sono state in difficoltà nel periodo del post Liman Radar e quindi c'è stata una serie di inconvenienti che l'hanno costretto a restringere il credito. Sono tornati a crescere comunque i finanziamenti alle imprese di maggiori dimensioni ma non alle piccole e medie imprese? Questo perché? E questo perché le piccole e medie imprese trovano sempre difficoltà anche nel rapporto con gli istituti di credito perché le garanzie, ovviamente gli istituti di credito vogliono garanzie e non è facile che le piccole aziende siano in grado di fornire queste garanzie.